musica ok ciao ragazzi siamo arrivati al video che in molti ultimamente mi avete chiesto ovvero il tutorial su sony vegas e più che altro su come renderizzo io i miei video quindi partiamo dal presupposto che io uso sony vegas pro 12 che non cambia praticamente quasi nulla dalle versioni precedenti e neanche dalla versione successiva che è la versione 13 e questo per chi apre per la prima volta il programma è l'iout originale quindi cominciamo a fare un po' di pulizia e a togliere le cose che a noi che dobbiamo fare a gameplay non servono come la finestra centrale qui a noi non serve quindi clicchiamo sulla x e la chiudiamo in modo tale da poter allargare e avere più spazio per le cose che a noi interessano come l'anteprima possiamo togliere tranquillamente anche la master del volume nel caso in cui per errore cliccate su questa e non sapete più come fare a rimetterla basta che andate su view video preview gli mettete lo spunto e ve la rimette rivolete il iout originale come era inizialmente non sapete come fare andate su view windows layout default layout e vi rimette tutto come era in partenza quindi andiamo a togliere questo e togliamo questo così è come lo utilizzo io ora la prima cosa da fare la cosa più importante da fare è settare il progetto quindi partiamo con l'idea che vogliamo fare un video in 1080p a 60 frame al secondo lo possiamo fare in due modi questo progetto lo possiamo fare da file properties e si apre questa finestrella oppure più velocemente e direttamente cliccando su quest'iconcina che abbiamo sopra la preview project video properties clicchiamo e si apre la stessa finestra da qui dobbiamo impostare il nostro progetto il 1920x1080 a 60 frame al secondo questo qui è quello che mi sono già salvato io voi non lo avete questo quindi lo dovete andare a fare lo dovete andare a creare quindi andate a prendere basta dire quindi andate giù e scorrete la lista fino a HD 1080 24p lo selezionate e vi si presenta con questi settaggi cosa dovete modificare? il 1920x1080 c'è già file order lo lasciate di default su non progressive scan pixel aspect ratio lo lasciate di default su 1,0000 square lasciate di default anche l'output rotazione e modificate il frame rate cliccate sul menu a tendina e andate su 5994 double ntsc dopo di che andiamo in basso lasciate 8 bit full resolution best motion blur type lasciate gaussian the interlace 8 method lasciate pure blends field e se avete lo spunto su adjust search media to better match project or render setting toglietelo assolutamente dopo di che qui sotto dovete andare ad impostare la cartella dove volete che i file renderizzati vadino a finire a fine rendering lo potete fare dal tasto browse andate voi dove volete salvare il file e lo selezionate e gli date l'ok in questo caso le mie registrazioni i miei video editati andranno nell'hard disk D nella cartella registrazione nella cartella video mettete lo spunto su start all new project with this setting poi andiamo su audio non toccate nulla lasciatelo così com'è andiamo su ruler non toccate nulla lasciatelo così com'è summary e audio cd non toccate nulla e lasciate così com'è ora date un nome a questo progetto in modo tale che se volete fare prove con che ne so un 720p oppure volete usare altri metodi creare altri tipi di progetti questo qui ce l'avrete sempre salvato nella lista quindi qui potete dargli il nome che volete io ad esempio l'ho chiamato e poi cliccare sul floppy appunto per salvarlo io ad esempio l'ho chiamato youtube hd 1080 60 frame al secondo che è questo esattamente come ve l'ho fatto impostare a voi cliccate su apply su ok e poi su apply chiudete e il nostro progetto lo possiamo vedere qui project 1920x1080 32 bit a 60 frame al secondo ok adesso siamo pronti per importare il nostro file video appena registrato il nostro gameplay appena registrato con o fraps o mirillis o dixtory o qualsiasi programma voi abbiate utilizzato appunto per registrare il vostro gameplay comunque siamo pronti per importarlo nel nostro sony vegas per importare basta andare su questa iconcina qui quella vicino al fulmine andate su project media se non ci siete perché sennò non ce l'avete quella iconcina vedete andate su project media cliccate su import video andate a cercare il file io per per esempio vi porto quello di insurgency che ho pubblicato l'altro giorno open in automatico ve lo importa io non l'ho ancora eliminato quindi ho ancora i file che crea durante appunto l'importazione voi qua sotto quando importate vedrete una barra che avanza uno di due o uno di tre dipende dalle tracce audio che avete nel file se registrate in traccia audio separata avrete tre passaggi da fare durante l'importazione del file ok adesso siamo pronti per portarlo nella timeline la timeline è questa la nostra timeline è questa per portare il video nella timeline non dobbiamo fare altro che tenere premuto con il tasto sinistro del mouse e trascinare dentro la timeline e farlo andare a sbattere contro la parete qua lasciamo e si creano in automatico la traccia video la traccia audio del gioco e la traccia audio del microfono io consiglio sempre se registrate gameplay di registrare sempre il microfono in traccia separata su Mirilis c'è l'impostazione mi sembra anche su Dictory adesso non mi ricordo bene comunque registrate se possibile sempre il microfono in traccia audio separata perché? perché se non lo fate vi ritroverete una sola singola traccia audio dove all'interno di tale traccia ci sarà l'audio di gioco e l'audio della vostra voce se la vostra voce è troppo bassa rispetto all'audio di gioco non ci potete fare assolutamente nulla invece in questo modo potete regolare e abbassare la traccia audio del gioco in modo tale da fare spiccare di più la vostra voce e il gameplay è notturna comunque andiamo subito su adesso non so se lo sentite vediamo che server ci trova comunque si sente chiaramente la voce e la musica in sottofondo del gioco è che difende Campera qua non c'è cazzo va benissimo che è anche giusto ok allora la prima e importantissima cosa da fare dopo aver trascinato il nostro file nella timeline cosa che dovete sempre e assolutamente fare non dimenticatevelo mai è cliccare con il tasto destro del mouse sulla traccia video andare su properties togliere lo spunto su maintain aspect ratio e metterlo su disable resample queste due cose sono importantissime per la qualità del video e datelo ok ora siccome il video editato diventa da avi viene convertito in mp4 cosa succede avrete notato anche voi sicuramente che dopo la conversione in mp4 il video diventa più scuro le parti che prima erano in penombra soprattutto dopo averlo caricato su youtube noterete che le parti che magari erano in penombra dove comunque però si riusciva a vedere chiaramente diventano proprio oscure buie non si vede una mazza cosa fare per evitare questo andate su video effects andate su brightness and contrast tenete premuto il tasto sinistro del mouse su brighter e lo trascinate sulla testata qui dove sono io col cursore adesso della traccia video e lasciate in automatico vi si apre questa finestra con questi valori di luminosità e contrasto centrale questi valori però sono un po' troppo elevati quindi li andiamo a dimezzare i valori che vi faccio mettere adesso vanno bene per qualsiasi gioco convertito in mp4 lo vedrete tanto come lo vedevate in origine i navi come luminosità e contrasto quindi se qui abbiamo 0,100 andremo ad inserire 0,050 qui abbiamo 0,500 andiamo ad inserire 0,250 questa cosa la potete salvare io di fatti l'ho salvata l'ho chiamata webcam per dire basta cliccare basta dargli un nome qui gli date il nome che volete e cliccate su floppy in automatico ve lo ritroverete poi andando su brightness and contrast nella lista qui ok chiudiamo e in automatico vedete che si è che è apparso questo simbolino qui che se noi lo clicchiamo ci dà appunto brightness and contrast che è la correzione che abbiamo dato al contrasto e alla luminosità ora siccome il video è lungo ne teniamo solo un minuto tondo così facciamo subito un rendering veloce e vi mostro le impostazioni da qui si torna indietro con la freccettina si torna indietro di un frame alla volta ok siamo a un minuto tondo tondo quindi adesso posso andare a fine video e qui doppio clic qua tasto S per tagliare e tasto Canch per eliminare adesso abbiamo solo un minuto tondo tondo di video un minuto tondo ok adesso passiamo al rendering vero e proprio per renderizzare il video non dobbiamo fare altro dopo aver fatto tutte le nostre impostazioni che vi ho mostrato fino adesso non dobbiamo fare altro che andare su file render as aspettate che chiudo ok render as e vi ritroverete tutto questo elenco di codec voi direte qual è meglio usare tutti dicono main concept tutti dicono windows media video oppure fanno prove su altri codec io a dirvi la verità li ho provati tutti li ho provati veramente tutti e ogni codec con varie impostazioni con vari tipi di bitrate con tantissime 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 impostazioni l'unico con cui mi sto trovando veramente bene ed è il più semplice da utilizzare è il sonyxavac s che è questo xavcs hd1080 long gop 59.94p lo selezionate fate customize template qui dategli un nome al video se volete in questo caso io lo chiamerò da vegas da vegas andate su il codec che vi ho detto che è questo customize template e vi si apre questa cosa dobbiamo modificare qua qui nulla perché è già a posto è già su xavac s è già 1920x1080 hd e il frame rate è già a 59.94 quindi 60 frame al secondo audio non modificate niente project l'unica cosa che dovete modificare è il rendering quality mettetelo su best dopo di che anche qui dategli un nome e cliccate sul floppy per salvarlo così avete il vostro codec bello che pronto per il vostro 1080p 60 frame da caricare su youtube dopo di che gli date l'ok fatto questo potete dargli render adesso questa parte di rendering la velocizzerò e a fine rendering andremo a vedere il filmato da un minuto come è venuto ok il rendering è finito per renderizzare un minuto di video con questo codec ci ho messo un minuto e 22 andiamo a vedere la dimensione open folder da vegas è questo e sono 213 megabyte questo era il file completo renderizzato che ho fatto l'altro giorno erano 7 giga e 57 però erano quanti minuti? 17 minuti e 54 voi direte la madonna come cazzo faccio a caricare 7 giga e 57 nel prossimo tutorial vi mostrerò come diminuire dell'80% la dimensione del file da caricare su youtube come con handbrake e anche sul tutorial di handbrake vi mostrerò le mie impostazioni per ridurre appunto dell'80% la dimensione del file senza perdere quasi assolutamente la qualità del video con questo codec che vi ho fatto usare l'Oxavac S della Sony praticamente scordatevi i pixeloni che girano nello schermo ok ciao ragazzi questo è il risultato che è quel gioco che avevo menzionato nel video di Dirty Bomb è perfetto poi potete andare a vedere anche inglese tedesca potete anche andarlo a vedere sul canale praticamente dopo averlo passato con handbrake era 7 giga e 57 dopo averlo passato con handbrake mi è diventato 933 mega e la qualità signori è questa identica praticamente all'originale anche perché già li devi comunque sia anche avendogli sparati direi che siamo morti in tanti assieme pensare di richiedere copertura di stare dietro ok quindi se volete sapere come ridurre dell'80% la dimensione del del video utilizzando handbrake aspettate il prossimo tutorial quindi che dire altro da aggiungere su sony vegas per il momento non 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 mi viene in mente nulla se avete domande da fare su sony vegas fatemele pure sotto i commenti se avete qualche dubbio fatemelo pure ovviamente sempre sotto i commenti per oggi è tutto quindi vi rimando al prossimo tutorial su handbrake per appunto ridurre dell'80% la dimensione dei video renderizzati con sony vegas spero che il video vi sia piaciuto spero che il video vi sia stato utile se il video vi è piaciuto lasciate il mio commento un like se vi va iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo alla prossima ciao belli iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale